Apertura per Lucas Moura. Firmino. Ha recuperato palla, non c'è pallo, dice l'arbitro. Occhio alla ripartenza. Gerrard! Ma l'hanno perso tempo. Un altro gol. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, è una ripartenza da manuale. Ha finalizzato la perfezione, è un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito.